Buonasera gentili telespettatori, grazie per aver scelto la nostra emittente. La prima pagina questa sera la dedichiamo alla vicenda che ha visto coinvolte l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Miciche, e l'assessore Falcone. È stato uno scontro durissimo fra i due. Vediamo quali sono le motivazioni e cosa ha prodotto. Gianfranco deve andare a casa, è arrivato il tuo momento, è arrivato, c'è poco da fare, Forza Italia non ti riconosce. Inveisce contro il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miciche, l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, dopo essere stato apostrofato come imbroglione dall'ex presidente dell'Ars. Scontro dei toni accesi ieri a Catania, la festa del tricolore di Fratelli d'Italia, tra i due esponenti azzurri da tempo ormai separati in casa, dopo le divisioni interne, prima sulla ricandidatura a governatore di Nello Musumeci e dopo sulla composizione della giunta del nuovo presidente della regione Renato Schifani. L'apice della lite, dopo uno scambio di battute al vetriolo tra i due, quando prende la parola Falcone. E tu la notte andavi a concludere accordi o chiedevi delle cose, incassavi e dopo di che dicevi che Musumeci non andava. Quello che ti ha dato Musumeci e che ci ha dato, non ce lo darà mai nessuno. Attenzione, Nello Musumeci in termini di cui ha avuto... Scusami, io non ti ho risposto, Gianfranco, ti prego, devi essere garbato. Io non ho detto per essere garbato, così come va, per tutti con i due, sette direttori generali delle Aspe, 13 presidenze, le più importanti le abbiamo avute noi in questi anni, abbiamo avuto noi 8 vicepresidenti, Forza Italia, Forza Italia li ha avuti. Miciche prova ad interromperlo tra il blusio generale e quando riprende la parola annuncia di volersene andare. A convincerlo a rimanere è Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, che gli sussura qualcosa all'orecchio e lui si risiede. Finita la convention, Miciche annuncia, mica possono pensare che me ne vado in pensione, anzi assicura, se volevo andarci non ci vado più, questo è poco ma sicuro, la frattura pare ormai insanabile. Abbiamo soltanto chiarito che è diventato insopportabile posizione di contrapposizione, questo ostruzionismo ho reiterato negli anni, prima nei confronti di Nello Musumeci, oggi nei confronti di Renato Silifani, è diventato inaccettabile, ma non da me, che posso essere l'ultimo, ma dai cittadini siciliani, per cui abbiamo respinto al mittente ogni tipo di provocazione, dicendo che ormai è veramente astufato e è diventata insopportabile. Si dice amareggiato per questa divisione del partito in Sicilia il presidente della regione Schifani, che aveva lasciato la sala da poco. In Forza Italia c'è un problema strutturale, sottolinea, ma io ritengo di aver fatto delle buone scelte anche nella individuazione della Giunta. Ma a tenere banco in questione in Sicilia c'è la situazione finanziaria della regione, dopo che la Corte dei Conti ha bocciato il processo di rientro dal disavanzo pubblico di 866 milioni di euro in dieci anni, che era stato autorizzato dal governo nazionale. La Corte dei Conti ha soltanto rinviato alla Corte Costituzionale ogni tipo di giudizio, delegando o meglio rinviando allo stesso giudice delle leggi ogni giudizio finale. Nel frattempo noi abbiamo chiesto al governo e al Parlamento nazionale di emanare una norma che chiarisca la regolarità della procedura, una norma di rango primario emessa dal Parlamento che possa riconfermare che quel disavanzo che proviene dal governo di centro-sinistra possa essere ripianato nei dieci anni prossimi. Secca la replica dalla Tunisia dell'ex governatore. Nei primi cinque anni di governo Crocetta i bilanci della regione sono stati regolarmente parificati e ciò dimostra che erano in regola. Nei primi due anni del mio governo il bilancio regionale è stato portato in pareggio e nei tre anni successivi si è prodotto un avanzo di circa 1 miliardo e 500 milioni. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di un argomento interessante, la Lucoil di Priolo. Da oggi scatta l'imbargo per quanto riguarda il petrolio della Russia. Alla Lucoil lavoravano questo petrolio e quindi c'erano grossissimi problemi di occupazione. Però è intervenuto il governo centrale ma anche la regione siciliana. Come dicono il ministro Urso e il presidente della regione Schifani. Vediamo. Cancelli aperti oggi nel giorno del via alle sanzioni al petrolio russo alla Lucoil di Priolo Gargallo nel Siracusano. L'accordo trovato dal governo ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai 10.000 lavoratori indotto, compreso che potranno così proseguire la loro attività. La soluzione della vicenda è il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il petrolchimico siracusano, ma anche il futuro dell'area industriale di Termini Merese fondato sulla meccatronica e lo sviluppo dell'Etna Valley come polo delle elettroniche e della innovazione tecnologica. Ieri al centro dell'incontro tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani e il ministro alle imprese del Made in Italy Adolfo Urso alla Palaregione di Catania. Presenti anche gli assessori all'economia Marco Falcone e alle attività produttive Edita Maio, al territorio e all'ambiente Elena Pagana. La dimostrazione ha sottolineato il governatore della grande sinergia tra governo regionale e governo nazionale. Beh sì, è chiaro che tutto il comparto è attenzionato da parte del ministro e da parte di questa regione. vi è un stretto rapporto, una stretta collaborazione tra gli assessorati di attività produttiva dell'assessore Edita Maio e il ministero. È piena sinergia, piena continuità di comunicazioni, di collaborazioni, quindi devo dire che si respira un'area forse che non si era respirata mai in passato. Un risultato non scontato per il ministro Urso che oggi sarà ospite dell'intervista in onda su Rey TV alle 21, anche su Facebook e in replica domani alle 23.30. Il dossier era nei cassetti e in poche settimane ha affermato Urso. Abbiamo trovato una soluzione, grazie alla piena collaborazione tra la regione siciliana e il governo di Roma attraverso il mio di Castero. Quando siamo arrivati al governo non era stato fatto nulla, di nulla. Eppure da maggio si sapeva che appunto domani sarebbe finito il rifornimento di petrolio russo a questo importante polo energetico industriale siciliano e italiano che garantisce il 23% dei prodotti raffinati che servono al nostro paese. Abbiamo trovato un dossier nei cassetti, l'abbiamo riesumato e in poche settimane abbiamo raggiunto l'obiettivo che era difficile, molti non ci credevano, appunto ci siamo riusciti grazie alla piena collaborazione tra il governatore, tra la regione sicilia e il governo di Roma e quindi il mio di Castero. Oggi, nel porre un punto fermo, abbiamo anche affrontato gli altri dossier che esistono, certamente sempre del polo energetico industriale di Siracusa e quindi del riconoscimento come area di crisi industriale che ci può permettere ulteriori interventi e investimenti anche pubblici, così come quello del polo di Termini Merese che deve tornare a sperare di poter tornare ad essere un polo industriale e quindi possibili investimenti che si debbano realizzare nel distretto della Meccatronica, così come del polo, del digitale, dell'innovazione, dell'Etna Valle. Io ho incontrato ST Microelettronica a Roma, mi hanno presentato i progetti di sviluppo che possono realizzarsi in questo territorio, ecco io credo che la Sicilia possa tornare a sperare. Sempre ieri, Urso si è recato in visita ufficiale ad Acireale, la città della quale è originario. Accolto dal sindaco Stefano Ali e dal presidente del Consiglio Comunale Fabio Fontanesca, il ministro ha dichiarato di essere felice per questo primo incontro nel territorio con uno comune ed è giusto che lo facessi nella città dove ho iniziato la mia attività, il mio impegno sociale e politico fin dai tempi dell'infanzia. E quell'impegno, ha detto Urso, quell'esperienza, quella comunità, sono stati molto importanti per ciò che ho fatto successivamente. Il ministro ha pure ascoltato alcuni interventi, tra questi quello del commissario per l'emergenza sisma Etana 2018, Salvatore Scalia. E adesso parliamo di un'altra realtà, il messinese colpito non solo da quello che è stato il maltempo, ma c'è lo stromboli che si è svegliato e sta creando grossi problemi. Vediamo. Il vulcano dell'isola di Stromboli continua a far parlare di sé. Prosegue infatti l'emissione di lava dalla cratera nord, che ha determinato diversi flussi piroplastici, con la conseguenza anche di un'onda di tsunami alta un metro e mezzo. La lava percorre il sentiero della Sciara, raggiungendo la linea di costa, in modo ben alimentato. Una situazione che ha creato allarme, tanto da determinare la chiusura odierna delle scuole. Probabile anche che al momento vengano vietate le escursioni sul vulcano. Una situazione tuttavia che resta sotto l'attento controllo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. A Stromboli la situazione è che continua il fenomeno eruttivo iniziato ieri nel tardo pomeriggio. In questo momento ancora la collata navica è ben alimentata e si sta riversando in mare. La situazione per il momento rimane da attenzionare, soprattutto legata ai possibili fenomeni di crollo che possono interessare la parte alta della sciarra del fuoco, come è avvenuto ieri all'inizio del fenomeno. che comunque rientra nella tipicità di questi fenomeni a ottobre. Abbiamo avuto la stessa fenomenologia, ad esempio. Il discorso dell'eventuale tsunami? E appunto dipende da quanto materiale cade giù a mare, ma comunque i volumi coinvolti non sono grossi. Quindi diciamo che i relativi tsunami, come quelli di ieri, sono veramente piccolissimi. Non hanno nessun effetto sulle coste. Qual è il livello di pericolosità dal momento che sono state chiuse anche le scuole? Ma questo non glielo so dire perché è legato alle azioni che poi fa il sindaco. Come protezione civile stanno modificando il livello di allerta da gialla ad arancione, ma esattamente come un mese e mezzo fa. Che evoluzione è possibile prevedere? Se il fenomeno segue il stesso percorso di quello di un mese e mezzo fa, piano piano dovrebbe gradualmente diminuire l'emissione lavica e poi concludersi. Però siccome i fenomeni vulcanici non sono del tutto prevedibili, quindi non è detto che segua lo stesso percorso. E adesso andiamo a Giarra, nella frazione di Tre Appunti, dove nella tarda mattinata di oggi un giovane con casco integrale si è introdotto all'interno dell'ufficio postale che si trova vicino allo svincolo dell'autostrada. con una pistola ha arraffato circa 3.000 euro, ma il direttore si è accorto che la pistola era finta, per cui ha iniziato una colluttazione con il giovane durante la quale la pistola si è spaccata in due. Il giovane è riuscito, nonostante questo, a fuggire e a salire, aspettato da un complice su una moto. Il direttore è andato ancora a conto per cercare di ribaltare la moto, ma i due sono riusciti a fuggire. Naturalmente sono intervenuti i carabinieri che attraverso le immagini del TV che ci sono nelle zone cercheranno di vedere e di poterlo individuare. Cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo di corruzione. Non è una novità in Italia, questa volta un direttore rispettorato del lavoro a Siracusa. Vediamo. Il direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa, Michelangelo Trebastoni, 60 anni, è stato posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione, concussione e rivelazione di segreto d'ufficio e domiciliare. Anche una persona di sua fiducia, di 54 anni, che faceva da intermediario tra l'ispettorato e le aziende, in cambio di utilità di varia natura, avrebbero condizionato la pianificazione o l'esito delle attività ispettive in favore di diversi soggetti economici. Nel Mirino anche due imprenditori nel settore della vigilanza privata, per loro il divieto di esercizio dell'ufficio direttivo nella persona giuridica e nelle imprese, e di un consulente del lavoro di Siracusa, per questi il divieto di esercizio della professione, che avrebbe assicurato l'assunzione del personale segnalato dal dirigente dell'ispettorato del lavoro. Le indagini della Guardia di Finanza di Noto hanno rivelato l'esistenza di un circuito corruttivo che era alimentato da legami di amicizia che univano a corrotti e corruttori in particolare. Nel corso di un controllo in materia contributiva previdenziale, i funzionari, su disposizione del loro direttore, avrebbero omesso di contestare i rilievi emersi, ricevendo però in cambio, da parte del rappresentante legale della società oggetto dell'ispezione, l'assunzione di una persona segnalata dal direttore dell'ispettorato. L'Inps però ha proseguito da sé l'attività ispettiva elevando, lo stesso sanzione appare a circa 80.000 euro per violazione di carattere amministrativo. In un'altra occasione, il dirigente dell'ispettorato del lavoro avrebbe convocato più volte uno socio di una nota scuola di lingue estere al fine di ottenere un trattamento di favore e un'assistenza dedicata in vista dell'iscrizione del figlio ad un corso d'inglese. E adesso un'altra truffa, questa volta a portarla avanti, degli imprenditori di aziende rifiuti che erano state dichiarate fallite, ma la Guardia di Finanza è riuscita a individuare che le due aziende fallite non avevano fatto altro che trasformare in altre situazioni analoghe quello che avevano invece perso nelle due aziende. Vediamo. Bancarotta fraudolenta. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP della Tribunale Etneo nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo, tra l'altro, per bancarotta fraudolenta documentale patrimoniale per distrazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo di due compendi aziendali per un valore di 4 milioni e mezzo di euro. Le indagini riguardano le imprese catanesi di raccolta rifiuti Consorzio Rieco, società cooperativa, e Purisud, società cooperativa. Due attività dichiarate fallite anche per i ridebiti immaturati nei confronti dell'erario. Oltre 18 milioni di euro il monte complessivo. Le due società sarebbero state via via svuotate per consentire l'azione imprenditoriale in nuove e non aggravate aziende. Dei beni e dei contratti in essere avrebbero avuto benefici le società Progitec e AS Ambiente operanti a Catania riconducibili alle medesime persone. Uno degli arrestati avrebbe utilizzato i fondi di una delle cooperative fallite per pagare debiti personali, costituiti da muti ipotecari per altri intestati a soggetti terzi consapevoli per il suo conto. In carcere sono finiti Filippo Santamaria e Angelo Lapiana, gli arresti domiciliari Gaetano Tagliarina e Rosario Pruiti Ciarello. E adesso un'altra notizia che ci porta nel mondo della immigrazione clandestina. Un barchino di circa sei metri è affondato a largo di Lampedusa. Alcune persone sono state salvate, altre sono morte. In particolare un bambino di sei mesi e un altro di sei anni. Cambiamo adesso decisamente argomento. Parliamo di una realtà che non dovrebbe avvenire, come ben sapete. Ci sono delle restrizioni per quanto riguarda i detenuti. Una di queste restrizioni è la difficoltà o l'impossibilità a comunicare col mondo esterno. Bene, a Palermo un detenuto aveva un cellulare che regolarmente utilizzava. Vediamo. È stato beccato in ferganza di reato il detenuto che, a seguito di controlli, è stato scoperto mentre era intento ad utilizzare un cellulare nella propria scella. Gli uomini della penitenziaria, che giorni prima erano stati messi al corrente tramite una segnalazione della presenza di un telefonino, hanno organizzato una vera e propria operazione. Quando hanno fatto irruzione all'interno della scella, gli agenti hanno trovato l'uomo disteso sul letto che cercava di nascondere il microtelefonino cellulare, composto di quattro batterie che ne consentivano il funzionamento e la carica. Questo quanto avvenuto all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo, dove è scattato il sequestro di tutto il materiale. Il detenuto, fanno sapere dalla polizia penitenziaria, ha dichiarato di essere consapevole di aver commesso un reato, ma che voleva sentire la sua famiglia. Resta ora da capire come sia arrivato il cellulare là dentro, varie sono le ipotesi. Il telefono potrebbe essere stato nascosto nei pacchi che ricevono i carcerati dai familiari, oppure tramite l'uso di droni, mezzi questi che nell'ultimo periodo stanno attirando l'attenzione degli investigatori. Determinante è stata la riuscita dell'operazione. I blitz all'interno delle carceri non sono semplici per via dei detenuti sentinella che avvertono della presenza dell'agente ogni minimo controllo. Restiamo a Palermo, dove un giovane è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Cardillo, che è quella che è sulla tratta ferrata che da Palermo porta a Punta Reis. Inevitabilmente il giovane è morto, ma si stanno sviluppando un po' le indagini per vedere un po' la motivazione del che cosa sia successo. Andiamo a Catania adesso, dove c'è stato un sit-in di protesta questa mattina da parte dei dipendenti dell'ODA, l'opera di assistenza di Ocesana. Vediamo le motivazioni. Protesto nel lavoratore dell'ODA, opera di Ocesana e di assistenza, che da settembre sono senza stipendio. Stamattina sit-in sotto la sede dell'Arcivescovato Etneo, in seguito alla proclamazione di uno stato di agitazione da parte della Funzione Pubblica della Cigelle di Catania. I lavoratori non ricevono stipendio dallo scorso mese di settembre, ma sino a questo momento non hanno interrotto il servizio ai disabili, garantendo comunque la loro attività, una situazione che fino a questo momento non ha trovato sbocchi e che lascia perplessi i sindacati, soprattutto per il riscontro dello stesso Arcivescovato. Questi lavoratori ormai da anni devono quasi quasi abituarsi a non ricevere le mensilità così come è previsto, in regola. Ormai sono tre mesi che sono senza retribuzioni. Sono qui stamattina senza assentarsi da lavoro. Chi era libero è venuto, proprio perché ritengono che il loro lavoro è un lavoro importante verso gli ultimi, verso i più fragili. Oggi loro stessi vivono questa condizione. Questi lavoratori vanno pagati, è vero sì, bisogna mantenere il posto di lavoro. Bisogna tutti insieme trovare delle soluzioni, fare uno sforzo comune affinché l'Oda resista e si salvi. Ma non si possono salvare 400 famiglie senza stipendio. E questo vorrei che fosse chiaro. Un pieno di rientro, bisogna capirlo, comprenderlo. Cosa significa pieno di rientro? Non pagare 400 famiglie per tre mesi? Quindi significa che chi sta facendo lo sforzo maggiore sono i 400 lavoratori sul pieno di rientro per l'Oda. Questa cosa è inaccettabile. Spiace anche leggere stamattina le parole del Monsignor Renna. Avremmo immaginato più attenzione da parte del Monsignore, anche perché sappiamo che è attento alle questioni sociali, attento ai lavoratori. Lo è stato così per i lavoratori della Pfizer. Ci aspettavamo lo stesso trattamento. Non ci sono vincitori e non ci sono vinti. Ci sono soltanto 400 famiglie senza stipendio. Si avvicina il Natale. Che Natale sarà per queste famiglie? Noi siamo disponibili sempre ad incontrarci con l'Oda. Vogliamo capire, vogliamo vedere i bilanci, vogliamo comprendere, vogliamo parlare con trasparenza ai lavoratori. Vogliamo che questo lo può fare l'organizzazione sindacale che ha una funzione sociale e lo deve fare anche l'Oda, deve fare in maniera trasparente, portare i lavoratori a comprendere qual è la situazione. Se vogliono che ci sia un coinvolgimento, una partecipazione. Quali sono le soluzioni individuabili? Potremmo individuare le soluzioni se avessimo questa trasparenza, perché noi non l'abbiamo e non ce l'ho io in qualità di segretario generale della funzione pubblica CGL. Non ce l'hanno neanche i lavoratori. Sanno soltanto che ci sono questi debiti. Ma appunto è questo quello che ci chiediamo. Perché le soluzioni possono essere soltanto di fare cassa sulle spalle dei lavoratori, fare cassa sugli stipendi dei lavoratori. Se ci sono consulenze, tagliamo le consulenze. Se ci sono altri sperperi, guardiamoli insieme e vediamo come affrontarle. Mardiamo qualcosa ai lavoratori. Devono vivere, non si vive senza retribuzione. Non si lavora per la gloria. Si lavora per vivere. E un 43enne di Belpasso è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Paternò per possesso e spaccio di droga. Pensate, all'interno della macchina aveva distribuite tantissime bustine nascoste in luoghi particolari, però su queste bustine era regolarmente segnato il nome e il peso dove doveva andare quella bustina. Adesso andiamo a Catania e parliamo del circolo di De Felice. Vediamo che cosa si tratta. Un progetto trasversale per dare impulso alla politica a rigenerarsi, rivolto ai cittadini e che punta a rappresentare la voce del territorio. Prima assemblea popolare, ieri nel salone della chiesa San Domenico, nell'omonima piazza Catania, del circolo De Felice Giuffrida, illustrate le linee guida e la visione per il futuro della città. Un partecipato momento di confronto su sicurezza, ecologia, servizi, turismo e lavoro, temi che caratterizzano la vita di una comunità locale. L'appello a collaborare per cercare le condizioni per una migliore qualità della vita nel posto in cui si vive è stato già raccolto da decine di cittadini che ieri hanno dato il proprio contributo intervenendo con proposte e idee. L'avvocato Alessandro Lipera è il portavoce del circolo. L'ultimo politico, comunque uomo pubblico, che dava spazio al popolo e ai cittadini si chiamava proprio Giuseppe De Felice. Poi abbiamo avuto il fascismo, poi abbiamo avuto il cinquantennio democristiano e poi abbiamo avuto la seconda repubblica. Ma mai e mai sono stati messi al primo posto i cittadini. Questo innanzitutto è il nostro obiettivo, ridare ai cittadini, al popolo la loro parola e cercare anche di orientare il dibattito politico. Adesso c'è un'opportunità che è quella del PNRR. Tutti ne parlano ma pochi forse sanno di che cosa si tratta. Come vogliamo spendere e cercare di orientare la spesa di questi soldi del PNRR a Catania? E soprattutto questi soldi devono ingrossare le tasche delle già ricche multinazionali oppure cercare un attimo di ritornare Catania all'idea di sviluppo che le appartiene? L'obiettivo sono le prossime amministrative ma l'attività del vostro circolo non si ferma a questo? L'obiettivo sono le prossime generazioni, non tanto le prossime amministrative. Le prossime amministrative saranno una tappa importante per capire questo circolo, qual è il peso in città. Una visione nuova di città ma anche un modello, quello che fu di Giuseppe De Felice per ridare slancio al capoluogo etneo. L'obiettivo in un momento critico per Catania è quello di coinvolgere le forze sane della città affinché si occupino direttamente della cosa pubblica. A livello locale ci dobbiamo occupare di strade, di luce, di spazzatura e di riparare gli scempi che ci sono. Non vedo il corso Marti della Libertà, io ero bambino, ora sono vecchino e sembra là. Quindi c'è stata una inettitudine per tanti anni, bisogna interrompere questa cosa. Perché un circolo dedicato proprio a De Felice? Perché De Felice fu promotore, pochi sanno, del movimento popolare catanese con a fianco personaggi come Federico De Roberto, Luigi Capuana che si interessò dei problemi civici senza considerare le contrapposizioni partitocratiche e ideologiche. Parliamo sempre più spesso e sentiamo parlare di variazioni climatiche e spesso li notiamo anche sulla nostra pelle pensate un po' a quello che è successo nella zona di Messina, Ischi o altro ma ci sono degli aspetti che potrebbero dirsi positivi ovvero sia la possibilità dalle nostre parti, dato il clima, di coltivare frutta tropicale. Siamo andati in uno di questi posti, vediamo. Le ottimali condizioni meteo con temperatura al di sopra della media stagionale sino a novembre inoltrato spingono alla produzione di frutta tropicale un settore in forte crescita, avogado, mango, kiwi, papaya solo per citare i più richiesti dal mercato interno rappresentano un punto di forza per la nostra agricoltura che punta sulla qualità e non sulla quantità particolare non secondario in un mondo sempre più globalizzato. A Giarre, nel complesso artigianale di Tre Punti opera un'azienda di confezionamento e spedizione di frutta tropicale tipicità della riviera Ione-Ghetenea un tempo patria dal limone verdello capace di rinnovarsi con coraggio nella conversione di ettele di campi coltivati a frutti tropicali che alle nostre latitudini trovano condizioni climatiche ideali favorendo la piantumazione di varietà tropicali incoraggiate dall'aumento della domanda. Sette italiane su dieci infatti cercano questi frutti secondo un dettagliato rapporto di Coldiretti. In questo centro di confezionamento, che è la gruppa 42 aziende agricole del comprensorio, si esportano svariate tonnellate di coltivazione. Si imballa avocado per le commerce, ovvero le ordinazioni che veicolano attraverso la rete internet percentuale in crescita che rappresentano il 30% del movimento complessivo del distretto produzione che l'acquirente riceve con certificazione di tracciabilità e freschezza del prodotto. Figliera sempre più corta per scalare il mercato di produzione e commercializzazione di colture di nicchia che occupano 188 ettari piantumati a frutti tropicali la cui lavorazione si perifica su dieci mesi l'anno impiegando migliaia di lavoratori del comparto. L'avocado da ottobre a maggio, la papaya da aprile a dicembre, il mango da agosto a dicembre. Cresce anche la produzione agrumicola, limone e arance. Mirando sempre sulla qualità, si ritagliano fette di mercato importanti anche all'estero al fatto che si punti sempre sulla qualità spiega Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti Catania, produttore di successo e convinto sostenitore del lavoro di squadra. Il caldo è relativo, le buone condizioni, cioè il mix tra terreno, acqua, microclima, umidità, pioggia. Ecco queste sono le caratteristiche che poi influiscono su un buon attecchimento, la crescita delle piante in generale, ma anche una buona produttività. Qui veicola un po' il grosso della frutta tropicale che viene prodotta dalla zona. Beh abbiamo iniziato in tempi non sospetti, è stata un po' una follia perché ora sono passati oltre 17 anni. Certo il tropicale, l'avogado e il mango sono relativamente giovani, nascono negli anni 50, negli anni 60, i primi impianti negli anni 70, 80, quindi prima di me ci sono dei padri putativi, dei pionieri che hanno puntato su questa frutta. È stato anche per loro un briciolo di follia, certo erano tempi differenti. Ora sono tanti anni che facciamo buona comunicazione, siamo riusciti ecco grazie al nostro impegno, grazie al nostro servizio a collegare un frutto con un territorio e viceversa. L'unione fa la forza, qui ci sono molti produttori. Beh l'aspetto essenziale è l'unione fa la forza, è un aspetto non solo organizzativo ma anche culturale. Assolutamente sì, qui rappresentiamo oltre 42 aziende agricole su una superficie di oltre 188 ettari, non si occupano solo di avogado ma chi mango, chi avogado, chi passion fruit, chi papaya, chi lici. Ecco l'unione fa la forza ed è un aspetto essenziale, lo dobbiamo comunicare con la massima trasparenza perché questa è filiera, filiera siciliana, filiera italiana e andiamo a raccontare quello che è il nostro impegno, il nostro sacrificio e quello che la Sicilia può dare. E adesso lo sporto e andiamo a San Cataldo. Ieri il Catania ha portato a casa un punto quindi è ancora imbattuto ma certamente non ha brillato. Vediamo. Il Catania salva la sua imbattibilità portando a casa un prezioso pari dalla difficile trasferta a San Cataldo. Gara piuttosto nervosa sin dalle fasi iniziali con la formazione di Infantino particolarmente aggressiva e gioco falloso in più circostanze. I patroni di casa riescono a sbloccare il risultato dopo pochi minuti grazie all'invenzione di Zerbo che recupera un pallone vagante in area di rigore dopo un errore in fase difensiva di Rapisarda e fulmina l'incolpevole Betris con un attiro imparabile. Il Catania però ha il merito di non disunirsi e spinto dagli oltre 1500 tifosi rossazzurri presenti sugli spalti pareggio un quarto d'ora dopo. Azione rocambolesca dopo il cross dalla bandierina di Lodi. Il colpo di testa di Rapisarda manda il pallone a picchiare contro la traversa il successivo tapin di Lorenzini incoccia ancora contro il legno della porta locale ma al terzo tentativo la conclusione di Somma manda il pallone oltre la linea bianca piccolo giallo nella circostanza con l'arbitro che non vede il pallone al trepassare la linea. Lo fa però il guardaline che consegna il pareggio alla capolista nella ripresa malgrado le tante sostituzioni. Il cliché della gara non cambia il match resta piuttosto nervoso. Ne fa le spese l'allenatore nisseno infantino espulso dall'arbitro. Poche le opportunità per chi è risultato cambi con Maltese da una parte e Rapisarda dall'altra che falliscono le uniche buone opportunità per mutare il resito dell'incontro che si chiude sull'1-1 mantenuto l'enorme vantaggio in classifica da parte della Catania con il Nellocri adesso che balza al secondo posto ad 11 lunghezza dei rossazzurri che si laurano però con notevole anticipo già campione d'inverno. Bene, adesso la pubblicità, ci vediamo subito dopo. Gentili telespettatori, finisce qui il nostro appuntamento. Non ci sono notizie dell'ultima ora. Prima di salutarvi vediamo assieme le condizioni meteo della giornata di domani. La giornata di domani per quanto riguarda la nostra isola sarà all'insegna della nuvolosità diffusa e non molto ampia. In particolare però potrebbero esserci delle precipitazioni nella zona del Palermitano e del Trapanese. I mari sono leggermente mossi. Queste le temperature che saranno registrate. 14-20 a Palermo, 12-16 a Messina, 10-18 a Catania, 7-18 a Siracusa. Come sempre, e d'altra parte distante dal mare, la temperatura minima più bassa la registriamo ad Enna con 2 gradi. Bene, è tutto per questa sera. Vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che potete rivedere sui social il nostro telegiornale. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.